Ecco Logan! Hai trovato qualcosa? Sì! Una lettiera! Aspettate! Oh! Cioccolatini! Logan non sa se mangiarli però! Oh, va va! Buonissimo! Wow! Ehi! Prendi fiato! È flamingo? Oh no! Hai mangiato i suoi cioccolatini! Mi dispiace, Flamingo! Lo so! Vuoi dei cioccolatini? Ecco, te ne do un po'! Che carino! Puoi riempire il suo becco di caramelle! E puoi anche vedere come le ingoia! Flamingo, sei felice ora, eh? Ma, oh no! Hai mangiato troppi cioccolatini! Adesso devi fare la cacca! Per fortuna Flamingo ha il suo bagno privato! Oh, ok! Ti metto qui! Ora vedremo tutte le caramelle che aveva mangiato! Che velocità! Bravo, Flamingo! Oh oh! Anche tu, Logan, hai mangiato troppi cioccolatini! Oh! Sto molto meglio ora! È bello avere un compagno di gabinetto! Sembra che Chloe abbia qualche problemino! Forse la prossima volta mangerai meno caramelle! Vai! Forse hai bisogno di cambiare posizione! Non riesco! Oh, idea! Posso usare questo sgabello! Ottima idea! Vedrai! Andrà molto meglio ora! Molto bene! Oh oh! Non c'è più carta igienica! Oh no! Logan! Ho bisogno della carta igienica! Non riesco a sentirti! Cosa farai ora? Ho trovato qualcosa! Oh! La mia ultima banconota! Aspetta! La vuoi usare per pulirti? No! Oh! Ok! Ci proverò! Ah! No! Non posso! È disgustoso! Oh! Logan! Perché sei vestito da fata? Ma almeno è qui! Dai, su! Forza! Fai qualcosa! Ho un gadget speciale per te! Cos'è? Wow! Grazie, Fatina! Peccato che la sua bacchetta non riesca a togliere i muri! È un bidet portatile! È molto facile da usare! Ha anche una pompa per spruzzare l'acqua! Ok! Voglio provarlo! Vediamo! Sì! Funziona! Adesso sarai tutta pulita e profumata! Finalmente! Sono pronta! E una volta finito, puoi buttare via l'acqua! Davvero molto facile! Oh! Che bello! Sì! Sbrigati, Chloe! Oh wow! Che bella che sei, Chloe! E come profumi! Logan è senza parole! Oh! Ho bisogno del bagno! Ops! Chloe ha scelto con cura cosa mettere! Ma non ha pulito molto bene il bagno! Oh! Ma che schifo! Chloe è una coinquilina molto disordinata! Ora Logan deve pulire tutto! Logan deve pulire tutto! Speriamo che quello scopino funzioni! Oh no! Non sta funzionando per niente! Che puzza! Oh oh! E adesso? Si è rotto! Oh no! Ma forse posso sistemarlo! Che schifo, Logan! Forse hai bisogno di qualcos'altro! Guarda laggiù! Oh sì! Questo sì che è un bello scopino! Versa del detergente all'interno! E poi premi il manico! E ora strofina! Guardate! Ora è tutto pulito e profumato! Che buon profumo! Adoro questo gadget! Ops! Non posso baciarlo! Devo andare in bagno! Eh sì! La tavoletta è troppo fredda, vero? Dai su! Pensa a qualcosa! Aspetta! So cosa fare! Qual è il piano? Eh! Cosa sto esocendo? Immagino che ti sederai su quel cuscino, vero? Oh oh! Ma sei pazza! Il bagno è tutto sporco! Ma fa freddo! Freddo? Guardate quell'elastico! Logan ha avuto un'idea! Dove vai? Ta-da! Un gadget speciale per te! È fatto di stoffa! Immagino che sia molto caldo! Mi piace un sacco! È morbido e caldo! Ok, sto diventando strano ora! Voglio provare! Wow! Lo adoro! Sì! Che bel balletto! Oh no! La carteggionica è finita! Oh no! Devo pensare a qualcosa! Wow! Quanti rotoli di carteggionica! È una torre altissima! Sì! Oh oh! Forse hai fatto male a prendere quello più in basso! Ah! Ops! Che disastro! Cosa posso fare ora? Oh sì! Chloe ha creato una melma liquida e ha messo i piedi dentro per fare degli stampi! Ora aspettiamo che lo stampo si indurisca! È fatto! Adesso versiamo il gesso! Ricordati di prendere un bastone però! Ti servirà! Ma non per pulire Chloe! Scherzo! Ecco qui! Che forza! Vediamo il risultato! Bello! È la copia esatta dei tuoi piedi! Adesso puoi colorarli! Tadà! Oh che bel colore! Ecco un nuovo supporto per la carta igienica! Lo metterò qui! Meglio metterlo vicino al gabinetto! Così riuscirai a prendere la carta igienica anche quando sei seduta! Il supporto può contenere tre rotoli di carta igienica contemporaneamente! Bello vero? Perfetto! Che cosa sto facendo adesso? Non sto capendo! Wow! Ma quella è una saponetta! Che forte! Addio vecchie saponette! La voglio anche io! È perfetta! Sì! L'adoro! Ora sei pronta! Pulita e profumata! Oh mamma! Da dove arriva? Guardate quanta terra! Chi sarà il colpevole? Scopriamoli insieme! Vediamo! Proviene da qui! Aha! Quelli sono i piedi di Chloe! Dove hai camminato per avere i piedi così sporchi? Cosa c'è? I miei piedi? Ma sì, tranquillo! È solo un po' di terra! Solo un po'? Wow! Che belle quelle crocs! Logan ha un'idea! È ora di pulire i piedi di Chloe! Logan ha tutto quello che serve! Iniziamo! Per prima cosa spruzza una schiuma detergente nelle ciabatte! Cosa fai? Metti i piedi dentro! Su! Wow! Che forte! Dopo il sapone spazzola via tutto lo sporco! E ora è il momento di sciacquare i piedi negli stivali! Che bello! Sì! Come sono puliti! Ora asciuga i piedi! E... Fatto! Che bel gadget! Ora non lascerai più terra in giro! È una bella sensazione avere la casa pulita! E in realtà ha anche i piedi! Guardateli! Come sono carini! Logan sta sognando qualcosa di strano! Sta mangiando delle caramelle dal gabinetto! È disgustoso! Gnion! Delizioso! Oh! 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 Che schifo! Aspetta! Era solo un incubo! Oh! Non mangerò delle caramelle dal gabinetto! Ma... Mi sono ricordato di una cosa! Oh! Sì! Oh! Che carini! Ogni gabinetto ha un gusto diverso! Può immergere il tuo lecca-lecca dentro! Questo sembra Coca-Cola! Ora mettiamoci un po' di fragola! E per finire un po' di zuccherini! Perfetto! Buono! Che cosa sta succedendo? Logan! Stai mangiando dal water? E le labbra sporche di marrone! Che schifo! Aspetta! È cioccolato! Non hai capito! Guarda! Non ce la faccio! È notte fonda! Ma Logan scappa la pipì! Troppa luce! Mi ha accecato! Ok! Molto meglio! Logan preferisce stare al buio! Wow! Che velocità! Buongiorno! Cos'è questo disastro? Logan! Vieni qui! Cosa c'è? Oh oh! Chloe è molto arrabbiata! Guarda cosa hai fatto! Non potevi sederti? La luce mi dava fastidio! E non vedevo bene al buio! Ti dava fastidio? Oh! Che idea! Cosa stai facendo, Chloe? Vediamo! Che ne dici di questa lampada? Ehm... No! Vediamo! Forse... Aha! No! Non va bene! Non pensavo a questo! Oh! Che ne dici di questa? È una lampada da notte! È fatta apposta per il bagno! Ta-da! Che gadget fantastico! Basta metterlo sotto la tavoletta del water e si accende automaticamente! Ora puoi vedere anche al buio! Oh! Logan ha bisogno di usare di nuovo il bagno! Ma questa volta ci vede! Wow! Questa lampada è fantastica! Ma vediamo se anche questa volta Logan ha fatto un disastro! No! Molto bene! No! No! Il telefono di Logan! No! Il mio telefono! Come sei sfortunato! È disgustoso! Posso salvarlo! Oh! Funziona ancora! Quelli sembrano i vestiti di Glow! Cosa vuoi fare, Logan? È ora di proteggere il mio telefono! Questi collant mi aiuteranno! Logan sta mettendo le calze sul water! E ha fatto un buco in modo da potersi sedere! Questo è un bel trucco! Ora non cadrà più niente nel gabinetto! Ok, proviamolo! Sì! Niente più telefoni nel water! Penso di essere stato bravo! Sì! Molto bravo! Hai avuto una bella idea! Ehi, Logan! Ma... Oh-oh! Chloe sta cercando i suoi collant! Dove sono finiti? Li avevo messi qui! Ne sono certa! Perché i miei collant sono sul water? Logan! Vieni qui! Ops! È ora di lavarmi le mani! Chloe odia i germi! Vuole essere sempre pulita! Oh! Questo sapone è molto scivoloso! Oh no! Ottimi riflessi, Logan! Hai trovato qualcosa lì dentro? Che schifo! È tutta sporca! Non posso più usarla! Prendi questo! Guarda, Chloe! Guarda cosa ho trovato nel mio naso! Sei disgustoso! Smettila! Chloe è molto infastidita! Vuole vendicarsi! Idea! Dispenser a forma di naso! Questo è un gadget davvero unico! Versa del sapone liquido all'interno del dispenser! È molto divertente! Vediamo se Logan ci casca! Cos'è? È bagnato! Non capisco! Boo! 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 Sì! Ce l'ho fatta! Brava, Chloe! Hai vinto! Sì! Questo dispenser è molto facile da usare! E si attacca anche allo specchio del bagno! Fatto! Adoro questo gadget! E guardate come sono pulite le mie mani! E guardate come sono pulite le mie mani!